. Johnny Depp porta sempre con sé il costume di Jack Sparrow. Bello e dannato, Johnny Depp ha interpretato con grande carisma il ruolo di Jack Sparrow, celebre pirata dei Caraibi. Secondo il produttore del film, la star di Hollywood sarebbe sempre pronta ad indossare i panni di questo straordinario personaggio che è entrato nel cuore di adulti e bambini in questi ultimi anni. . Lattore non ha mai negato di essersi molto affezionato a quel personaggio, considerando la saga I Pirati dei Caraibi una delle sue esperienze più riuscite. Johnny Depp, sono io l'unico e vero Jack Sparrow. . Nonostante i gravi problemi affrontati nell'ultimo anno, tra cui la separazione con Amber Heard e il tracollo finanziario, Johnny Depp è una delle star di Hollywood più amate dal pubblico, per il suo carisma e la sua personalità fuori dalle righe. . Sexy e divertente, l'attore continua a stupire i suoi fan, vestendo ogni volta che ne ha la possibilità i panni del suo amato Jack, è successo anche poco tempo fa durante una sua visita ai bambini ricoverati nell'ospedale BC Children's Hospital di Vancouver, in Canada. . Secondo Jerry Bruckheimer, il produttore della saga I Pirati dei Caraibi, Depp è sempre pronto a vestire i panni di Jack Sparrow, dimostrando quanto sia sinceramente affezionato a quel ruolo. . Questa saga ha riscosso un successo strepitoso in termini di pubblico, coronando la star di Hollywood ancora più all'Olimpo del cinema. . Oggi il tanto amato Johnny sta vivendo un momento di difficoltà, da cui sta facendo di tutto per rialzarsi, con l'originalità e lo stile che lo contraddistinguono. . Johnny tra alti e bassi, la sua vita tra lavoro e amore. Sono molte le star di Hollywood che vivono momenti di alti e bassi, a causa di problemi sentimentali, dipendenze o tracolli finanziari. . Dopo aver vissuto per anni sulla cresta dell'onda, considerato uno degli attori più carismatici e talentuosi di sempre, anche Depp è scivolato, a causa delle eccessive spese e dei suoi numerosi vizi. . Dopo una lunga unione con la splendida collega francese Vanessa Paradis, da cui è nata l'incantevole Lili Rose, l'attore ha iniziato una relazione molto passionale con Amber Heard, che è sfociata nel giro di pochissimo o non matrimonio. . Pochi mesi dopo il si però la situazione tra i due coniudi si è fatta sempre più tesa, fino a scoppiare, si è parlato di percosse e tradimenti, e alla fine i due si sono detti addio, non senza tensioni. . . L'attore si è trovato a confrontarsi con una situazione economica molto delicata, tanto che ancora oggi sta cercando di vendere alcune delle sue proprietà, molti fan della star si sono preoccupati per il suo declino, ma fortunatamente Depp ha sempre una carta da giocare. . . Il suo stile unico infatti gli ha permesso di rialzarsi in ogni momento, senza mai perdere l'ironia che lo contraddistingue, interpretare Jack Sparrow lo ha sempre aiutato a ritrovare la sua dimensione, nonostante le difficoltà e gli sbagli commessi. . . Ad oggi l'attore continua ad avere il suo seguito e l'amore per la recitazione lo sta portando a riscattarsi, sono tanti i fan che lo sostengono, certi che a breve ritornerà alla ribalta più forte e ispirato che mai. . .